Con questo video vogliamo analizzare un calciatore in particolare, arrivato nelle ultime ore del calcio mercato estivo. Si tratta del serbo Luka Jovic, prelevato dalla Filentina in prestito gratuito per un anno, anche perché a giugno 2024 con i viola scade il suo contratto e quindi si svincola a zero. Il Milan in questi cinque mesi valuterà il suo rendimento sportivo e deciderà se tenerlo oppure no. Il suo esordio non è stato dei migliori ma non è stato bello neanche per tutta la squadra rossoniera perché è avvenuto alla terza giornata di campionato nel derby perso 5-1 contro l'Inter. Luka Jovic fino a qualche settimana fa non aveva mai convinto i tifosi rossoniri e si parlava già di un flop annunciato e quindi di un calciatore arrivato al Milan che non poteva dare nessun rendimento e nessun apporto alla squadra rossonera visto le sue prestazioni sportive. Invece dalla partita col Frosinone ma anche quella precedente con la Filentina abbiamo visto un Jovic diverso. In pratica contro la sua ex squadra, quindi contro Riviola ha fornito l'assist a Teo Hernandez che poi ha procurato il rigore che lo stesso francese ha realizzato regalando i tre punti al Milan. Invece col Frosinone ha segnato la sua prima rete in rossonero e ha fornito l'assist del 3-0 per quanto riguarda il gol di Tomori. Luka Jovic si è ripetuto anche sabato scorso a Bergamo contro l'Atalanta. È entrato al 75esimo subentrando quindi nella ripresa con il Milan sotto 2-1 e riuscito grazie all'assist di Pulisic a siglare la rete del momentaneo 2-2. Poi è arrivato in tempo scaduto il gol di Muriel che ha regalato la vittoria per Gamaschi. Il rendimento di Jovic quindi sta migliorando di partita in partita anche perché era arrivato al Milan come aveva dichiarato il mister Pioli che in pratica fisicamente non era ancora al top. Ora invece che sta recuperando la forma fisica si sta vedendo uno Jovic diverso. Ovviamente ricordiamo tutti il calciatore serbo che all'entrat Francoforte in coppia con Rebic aveva fatto vacillare tante squadre europee e infatti a fine stagione fu acquistato dal Real Madrid. Però poi il serbo non ha mai convinto con le merengue S e quindi fu ceduto alla Fiorentina. In due anni alla Fiorentina ci sono stati alti e bassi. L'anno scorso aveva segnato tante reti giocando 53 partite però il suo rendimento era stato risultato non all'altezza. Infatti a fine stagione quindi nel mercato estivo è stato poi ceduto come dicevamo prima in prestito gratuito al Milan. Ora Jovic ha questi cinque mesi di tempo per convincere la dirigenza rossonera a tenerlo e quindi a fargli un contratto anche per la prossima stagione.